E' stata una seduta dai toni particolarmente accesi, quella di ieri sera al comune di Mascali, quando i consiglieri hanno trattato il punto relativo alla potabilità dell'acqua e soprattutto quando il sindaco di Mascali Luigi Messina ha preso la parola, chiarendo come l'ordinanza di inibizione all'utilizzo per usi umani dell'acqua potabile nelle frazioni di Fondachello, Sant'Anna e Carrabba sarà revocata solo quando riceverà, a giorni da parte dell'ASP, i dati che confermono appunto la potabilità delle acque comunali. Messina ha sottolineato anche come il comune servendosi di laboratori privati abbia già appurato che l'acqua comunale rientra nei parametri disposti dalla legge e inoltre come il Ministero dell'Ambiente e della Salute sul portale Acque abbia assicurato l'eccellenza delle acque marine, a sua volta ulteriormente confermata la balneabilità delle acque mascalesi anche da goletta verde della Lega Ambiente. Insomma per il sindaco Messina le acque comunali e quelle marine hanno dei parametri che rientrano perfettamente nella norma.